salve a tutti e bentornati sul mio canale le perle di vale oggi video collaborazione con gioia d'oriente il negozio che è situato qua a forlì dove mi mi vado a servire io per le mie perline la mia bigiotteria e quant'altro poi vi metterò il link del sito nell'infobox perché anche hanno anche un sito dove potete acquistare online bene oggi facciamo questo progetto qua è un anellino con cristalli ed è un po con la tecnica wire io ho preso abbiamo bisogno di filo di ottone io ho preso questo da 8 mm poi dei cristalli dei cristallini da 04 mm poi abbiamo bisogno di pinze diciamo due pinze con non signato ma piatto una taglierina anche queste le trovate sul sito e sul negozio di gioia d'oriente abbiamo bisogno di un paio di forbici poi abbiamo bisogno di un attrezzo rotondo per fare il nostro anello io ho questo che è il cavaliere in acciaio ho anche quello con le misure ma attualmente l'ho in macchina perché lo tengo per quando vado a fare i mercatini oppure se non avete questo prendete qualsiasi altro oggetto rotondo che sia della misura del vostro dito io a per per stirare il filo bene potete usare un un pezzo di stoffa in questo e fate così in questo modo altrimenti esistono anche delle pinzette penso che l'abbiano anche loro non sono sicura comunque che hanno queste questi specchi questi becchi in plastica per non rovinare il filo quando lo andiamo a stirare oramai queste sono da cambiare perché ero usate tante volte però io generalmente se non ho queste a disposizione faccio in questo modo e al mi stile un filo poi mi vado a infilare tutte le mie perline io a vi dico io di filo ne ho presi circa 16 centimetri però voi potete prenderlo nella lunghezza della dei giri che volete fare del vostro anello e io ho preso poi due quattro sei otto dieci e dodici perline anche qui è facoltativo potete mettere di più o di meno secondo come vi piace voi se mi piace bello pieno o o meno vado a inserire tutte le mie perline sono tutte le mie perline e iniziamo a girare il nostro filo mi raccomando lasciate un pezzettino circa 68 centimetri e iniziate a girare tenendo le perline mi raccomando vicino al cavaliere poi andiamo a girare mettendo come vedete due o tre perline come volete tenendo così teniamo strette le perline anche se poi escono dopo le andiamo poi aggiustare dopo a fine fine giri in questo modo così vedete e andiamo a girare anche l'ultimo giro in questo modo e abbiamo come ho detto tanto le perline poi si muovono io ho fatto uno due tre quattro giri togliamo il nostro attresso e ci fermiamo le perline in questo modo allora io ho scelto di mettere tutti i fili non uno sopra l'altro ma in questo modo qua teniamo teniamo scusate ne è uscito una ok teniamo bene fermo in questo modo e andiamo a prendere un'estremità lo portiamo in questo modo facciamo girare dentro così mi raccomando aiutati con una pinza per stringere bene cerchiamo di metterlo bene allineato vedete così dopo logicamente dovremo andare a definire bene il tondo questo momentaneamente è per per fermare poi andiamo da quest'altra parte mettiamo sempre tutti i cristalli dove abbiamo già messo il fermo questo serve per dare per dare il giusto per dare il giusto la giusta misura tra le perline e il dito dopo andremo non vi preoccupate adesso è così ma andremo poi aggiustare tutto in un secondo momento adesso questo ci serve solo ed esclusivamente per fermare il il tutto prendiamo l'altro capo del filo questo qui non quello che abbiamo girato qua ma quest'altro lo andiamo a portare dall'altra parte ora io ne ho tenuto di meno però cercate di avere diciamo la stessa misura di larghezza almeno per quanto dobbiamo girare almeno dobbiamo girare bene insomma ecco quindi andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto da quest'altra parte andiamo a bloccare e giriamo il filo dentro a questo questo aiutiamoci con in questo modo vedete vedete abbiamo bloccato le perline ora andiamo a sistemare il tutto quindi qui tiriamo un po' di più e andiamo ricordate ho detto io a me piace che stiano tutte una vicino un'altra e non sopra quindi col cavaliere ci andiamo ad aggiustare in questo modo mi raccomando la vostra misura io per dargli più stabilità prendo un martello e batto sopra vi faccio vedere per appiattire un po' e far sì che rimangono tutti uno vicino all'altro eh senza sovrapporsi in questo modo qui che perché non mi piace vedete così non mi piace quindi vado a sistemare a dargli questo serve per dargli un po' di stabilità e di diciamo indurire anche un po' il nostro metallo eh vedete ora andiamo a finire i nostri giri per bloccare togliamo dopo riprenderemo il cavaliere e andiamo a girare facciamo almeno tre giri uno tiriamo bene due e tre ok vedete tagliamo portiamo dentro in modo che non dia fastidio al nostro dito io cerco di metterlo sempre in questa maniera vedete e facciamo così anche dall'altra parte facciamo tre giri uno vedete ora tagliamo e anche qui andiamo a posizionarlo bene dove non ci dà fastidio così vedete ora andiamo a dare a definire ancora bene il nostro anello perché sicuramente si è spostato quindi andiamo a dargli la giusta posizione e andiamo ancora in questo modo vedete vedete guardate il nostro anello è finito vedete è semplice da fare l'unica cosa un po' complicata è stare tenti cioè complicata che è brigosa stare attenti all'inizio a mettere le perline in modo che stiano ferme e niente il nostro anello è finito vedete vedete bene io spero comunque che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato d'aiuto andate sul sito di Gioio d'Oriente vi lascerò il link oppure se siete nelle vicinanze di Forlice, Sena e Faenza potete andare a visitare il loro negozio per ora è tutto e io vi ringrazio della visione se volete rimanere sempre aggiornati mettete attivate la campanellina e mi fa piacere se mettete pollice in su per farmi sapere se il video vi è piaciuto questo è tutto io vi auguro buona giornata e ciao al prossimo video ciao